Un caro saluto a tutti quanti, siete voi tra gli utilizzatori dell'app di Whatsapp o per meglio dire utilizzate in generale Whatsapp? Beh ovviamente la risposta non può che essere sì, tutti quanti ormai ce l'abbiamo in modo stabile da anni e Whatsapp sta per introdurre un sistema che può sembrare curioso e banale nella norma ma che in realtà Whatsapp non ha mai utilizzato prima d'ora e quindi questa cosa potrà far felice in tanti. Che cosa? Ovviamente la possibilità di utilizzare non tanto il numero di cellulare per accedere al proprio sistema di Whatsapp ma un classico username e password, tutto questo ha senso ovviamente. Questa cosa è in versione beta già da un bel po', erano stati fatti dei test mesi fa si potrà anche aggiungere quelli che vengono chiamati handle cioè chiocciola e una username che voi vorrete adottare ma questa cosa potrà naturalmente aiutare tante persone. Attualmente c'è da considerare che ci sono stati fatti dei passi avanti io vi suggerisco per esempio l'app perché comunque l'app è sempre un po' più avanti cioè ovviamente non l'app per cellulare, quella ovviamente, cioè quella ce l'abbiamo tutti e va bene intendo proprio l'app per Windows, tanto per fare un esempio, adesso non so se c'è anche per Mac ma per Windows per esempio l'app è ultra comoda perché è completissima, 100%, potete addirittura condividere lo schermo con gli altri abbiamo, ho fatto altri video in cui parlavo di questa cosa, l'app è veramente molto comoda e vi permette anche di vedere gli stati, di scrivere ovviamente eccetera eccetera nasce un po' per la versione web come test e come esperimento adesso addirittura si può sfruttare senza autorizzare direttamente il telefono cioè si potrà, attualmente no, c'è la possibilità di utilizzare il multidispositivo quindi su più telefoni contemporaneamente eccetera eccetera ma chiudiamo qui con il concetto della novità che c'è su WhatsApp cioè la possibilità che ci sarà, adesso è in roll out, è ancora in test eccetera eccetera però il fatto che su WhatsApp potremo godere del nome utente è sicuramente una cosa comoda ma anche e soprattutto una cosa discreta non è necessario che io ti debba dare un numero di telefono per poter interagire con me anche perché comunque lato privacy insomma una persona potrebbe non voler dare il proprio numero però magari per motivi di lavoro, per motivi di servizio a volte ci si scambia sistemi di chat come che ne so, Skype piuttosto che Teams Teams è strumento di lavoro, può essere anche strumento personale Skype può essere anche uno strumento esterno ma che così comunque non dà un obbligo di interazione esagerata lato privacy e ci può stare soprattutto perché il cellulare insomma c'ha dietro giustamente insomma tutta una serie di logiche per cui uno potrebbe non volerlo dare questa cosa arriverà e ovviamente non possiamo che essere felici di questa innovazione grazie a tutti, continuate a seguirmi, continuate ad amarmi alla prossima e ciao ah ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale grazie, ciao